Eccoci qua, buongiorno. Allora, noi siamo un micio maschio, tigrato grigio, di 3 anni, 4 non di più. Siamo molto molto belli, molto molto dolci. Siamo testati FIV e FELV negativi, quindi siamo sani. Abbiamo fatto la prima vaccinazione anche per la FELV. Tra una ventina di giorni abbiamo il richiamo. Viviamo in questo gabbione perché la persona che ci ha abbandonato, non sappiamo chi sia se non lo sa lui, ha deciso di abbandonarci per strada invece di chiedere aiuto a un gattile o a delle volontarie. E quindi siamo stati recuperati per strada. Adesso cerchiamo casina. Anche come figli unici perché noi adoriamo le persone. I nostri simili sì, va bene, li accettiamo, però diciamo che comunque anche da soli stiamo meglio, diciamolo un po', né? Che non tutti ci piacciono, però non siamo così tremendi. Anzi, guarda che fusione che facciamo. Senti un po'. Li sentiamo le fusione, li sentiamo. Troveremo anche un nome, vero? Ci fai vedere gli occhioni gialli? Ce li fai vedere quegli occhioni gialli? Guarda, siamo splendidi. E cerchiamo in continuazione le coccole. Abbiamo degli occhioni bellissimi. Guarda che roba. Adesso siamo qua che ci laviamo tutti per bene perché il veterinario ci ha pastrucchiato un po' perché ci ha fatto la visita. Quindi dobbiamo darci una lavata. Adesso vi facciamo vedere gli altri che cercano casa. Grazie.